Un uomo di 44 anni, nato a Santo Stefano di Quisquina, residente ad Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, è stato catturato e condotto in carcere dopo essere stato condannato con sentenza del Tribunale di Caltanissetta, confermata dalla Corte d'Appello e divenuta revocabile, a 12 anni di carcere e a una multa di 9.000 euro, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'attività di indagine, denominata profanum dai carabinieri di Mussomeli, coordinata dalla procura di Caltanissetta, è iniziata dopo l'arresto in flagranza dell'uomo il 22 novembre del 2018 per avere storto del denaro a una donna di Mussomeli con la minaccia di pubblicare le foto e i video che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con il padre della vittima. L'attività investigativa ha permesso di far luce su una serie di gravi reati come estorsioni, truffe e violenze sessuali consumate in diverse località, fra le quali Raffadali, Caltabellotta e Ribera. In particolare l'uomo, frequentando parrocchie e gruppi di preghiera, recita la nota ufficiale dei militari e è riuscita ad allacciare rapporti con alcuni membri delle comunità religiose locali che venivano minacciati della pubblicazione di foto e video che li ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti o truffati dall'uomo. Il 44enne, con la complicità dei genitori, anche loro condannati in via definitiva, sfruttava la sua fama di oculista e guaritore, generandone alle sue vittime la convinzione dell'esistenza dei gravi pericoli che avrebbe potuto risolvere solo lui con preghiere e rituali, facendosi consegnare in cambio dei suoi servizi somme di denaro.